Facevo il cuoco, e poi un tizio faceva il lavapiatti del Bangladesh, questo è il partito dal Bangladesh, ho dovuto fare il lavapiatti a Parigi, puoi fare qualsiasi cosa. A un certo punto io gli faccio, scusami, ma cosa faccio lì nel Bangladesh, mi vedete qua? Riparavo caldaie. Poi da Parigi ce ne hanno i caldaie. Questo è un po' di fuoco. Dallo giuro, ma perché è partita da lì? Cioè, potete fare una qualsiasi cosa. Cioè, tu facciami, tu riparami le caldaie, vieni a Parigi, continuo a riparare le caldaie. Se devi fare il lavapiatti, lo fai nel tuo paese, che lì ci sono i turisti, dove vuoi fare? Adesso lavavo dei piatti e vado a lasciare tipo... E io lo guardavo tipo... Forse io ero rinvenuto la vita. D'ora dopo non ti scompare. Che io, per un'altra parte un cazzatore che mi mancava il lavapiatti, poi ho detto, io ho realizzato un soggetto, l'ho chiamato e faccio, Parigi, ma dove ti trovi? Mi trovo, siamo in Parigi, che era un po' di terra, ma la dà. Ti accorcio, perché il tempo che lo chiami... Parigi, ma dove ti trovi? Ho ascoltato il tuo consiglio. Non ci credo. Ripari le caldaie? Non faccio i lavapiatti nel mio paese. Non hai capito un cazzo, Parigi? Non era questo il consiglio? Grazie. 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 Grazie.